Mi trovo qua con l'allenatore di Reggio Emilia dopo la partita contro Brescia, dove Brescia ha portato a casa il risultato 3-0. Vincenzo, cos'è che è successo in questa partita? Cos'è che non è andato? Tanti muri out, tante coperture, molti punti dopo la schiacciata in lontani. Insomma, cos'è che non ha funzionato nei ragazzi per portare a casa questa vittoria o almeno provarci? Ma ci abbiamo provato, questo posso dirlo con certezza, che comunque ci abbiamo provato, perché abbiamo perso due set a 23, l'altro a 21 ma anche lì siamo stati vicini fino a oltre metà del set. Poi, tenedici tanti muri out subiti, c'è anche bravura perché quando ti attaccano molto alto sulle mani è un po' più complicato andare a murare. Quando hanno abbassato un po' i colpi, alla fine abbiamo murato più noi, sette muri noi e sei e non sembrava, durante la partita sembrava il contrario. Così come abbiamo sbagliato meno in attacco, la differenza è stata che loro hanno attaccato sempre tutti i 3-7 con percentuali più alte rispetto a noi. Quindi la partita è stata più quella, con l'attacco che sono stati più incisivi, sono stati più bravi nel mettere giù palloni, qualche azione lunga l'hanno messa giù loro, quasi sempre loro. E questo poi alla fine può sembrare un 3-0, ma un 3-0 23-23 resta un 3-0 ma un 3-0 che ci deve far pensare un po' su alcune cose tipo che sbagliamo ancora poco in battuta e abbiamo qualità per poter fare ancora di più in battuta. Quindi non dobbiamo avere il timore degli errori col servizio ma dobbiamo andare a cercare ancora più qualità di quella che mettiamo fino ad adesso in campo che non è poca già, perché sbagliamo poco e otteniamo, però possiamo fare ancora di più perché abbiamo le qualità in questa squadra per fare di più. E quindi adesso ci lavoriamo, ci ragioniamo un attimo e poi ci lavoriamo anche perché dobbiamo andare un po' più col braccio sciolto, andare lì, provare ad offendere un po' di più col servizio, verrà fuori qualche errore in più, non mi interessa e non ci interesserà perché poi alla lunga otterremo qualcosa in più e possiamo ottenere qualcosa in più. Questo è sicuro. Poi un po' ancora sulle scelte dei tempi, su alcune palle scontate, dove lì abbiamo un po' anticipato con i tempi e quindi li facevamo vedere un po' prima le mani, però loro sono stati molto bravi. Cisola ha messo due o tre palloni in controtempo, quindi non abbiamo sbagliato il tempo, è lui che ha aspettato un po' di più e lì c'è bravura comunque dell'attaccante. Non dobbiamo sempre pensare che quando le cose non vanno siamo poco bravi noi e quando le cose vanno è perché gli altri non sono bravi. La coperta è sempre corta, la verità è sempre nel mezzo. C'è bravura e demerito. Alla fine il limite sta nel mezzo, non è sempre da un lato o dall'altro. Poi bisogna subito votare pagina perché giovedì giocherete di nuovo in casa, quindi i giorni sono corti. Questo è un bene, perché subito dopo una sconfitta secondo me è il modo migliore per riprendere e avere quanto prima possibile la partita da affrontare e avere la potenza piccena. Sappiamo che anche questa è un'ottima squadra come tutte d'altronde e dobbiamo cercare di far bene, portare a casa il risultato e rimettersi lì in rotta per quello che deve essere il nostro campionato.